Sento sono brutta, ma sono sempre stata così brutta Ma in realtà sei peggiorata con il tempo Allora, ragazzi so che sembra l'inizio di un porno ma non è così Perché quella cosa ha una figura lunga e voi so che penserete male Ma in realtà è semplicemente il regalo di compleanno di questa donna Che in questo momento sta facendo da camera girl Ciao E allora signori Beh mi sa che ti serve un paio di forbici A prendere la chiavi della macchina A prendere la chiavi della macchina mi piace chiamare i pacchi che mi arrivano a casa I pacchi la vedo una strada brutta Ti immagini che mo sfascio il regalo per fare sta cosa che chiami? Allora, a essere nero è nero quindi preoccupamoci Tiriamo fuori questa prima parte Allora in questa prima parte signori Aspetti, prima tiriamo tutto fuori Ok, tiriamo tutto fuori Ora il cavalletto Non immagino Ah un cavalletto questa cosa Non lo so Proviamo prima questo Non lo so perché Però mi spira È nero Ovviamente sei a tratto Il tratto dalle cose nere è un po' come No A lei piace anche quelli bianchi Questa cosa qui Dentro è una busta troviamo un'altra busta È un cavalletto No In realtà Passo lettini di cose zoze Ah no, libretti di distruzione A poi gli insegno come si monta Ok, no perché Che hai detto così brutto No allora questa qua in realtà è tipo la cosa per la luce no? Cioè tu lo metti E poi lo prendi No in realtà ho capito più o meno cosa bisogna fare Cioè tu fai così Cioè ma io per fare un video mi devo sparare ogni giorno Ma perché la tieni così? Non c'è leggerne Oh Quindi questa cosa io praticamente Ma sbatto in faccia Ok poi apriamo questo Perché qua dentro comunque Ci sta la lampada credo Quindi molto legiovadramente Legiovadramente Porco tutto non si apre Molto già Spacca la lampada Ah guarda quanto è piccola questa lampada Adesso mi diverto con questo io Oh Cioè altro che lampada Qua divento peggio di Non so Yangambiwa Poi successivamente L'avremo il cavalletto Questo non si sa in realtà Potrebbe anche essere un troll E ci trovo un concerto per Che concerto? Mosco Rossi per caso? E questo è un cavalletto signori È meravigliosa questa cosa Quindi abbiamo le nuove luci Professionali E sapete cosa significa questo? Ladies and gentlemen Signori e signore Bambini e bambine Anche se poi mi daranno del pedofilo Perché comunque ormai Sono mangelenne Quando farò i video in camera Special in questa frazione della camera Non troverò più E quindi non sembrerà più Che io sia in un bunker sotterraneo Con qualità dubbia Della mia meravigliosa Ah stavo cercando a telecamera Non curante del fatto che Che altro non sembrerà che tu sia un simpson Ho messo all'angolino È perfetto Non dà fastidio Stay tuned Che comportazione è questa? Ok è bellissima questa cosa Perché al di là poi del fatto che poi ci sistemeremo E tutto quanto ragazzi Questa sarà più o meno Più o meno La mia inquadratura professionale Per professionale poi Cioè nel senso Non diciamo queste cose Che è sempre tutto fatto in maniera amatoriale Soprattutto tra me e lei Quindi signori Con zoom modificato Quello che prepara a voi Con queste nuove luci fondamentali E bellissime Questa sarà la nostra nuova inquadratura Per la carriera E non solo voi Perché saranno un sacco di video belli e professionali Se voi lasciate un like a questo video Io vi hanno Come hanno questa donna Che adesso vi si farà vedere Ti fai vedere per favore Ciao Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti 2,50 euro 2,50 euro 2,50 euro Ho fatto d'oro No, ciao a tutti Una volta ho comprato un caffè E in un motel a termini 5 euro Con una volta di biscotti Ho detto questi sono inclusi Niente di occupare Ho guardato Gli ho fatto Ci mancherebbe Ciao a tutti Ciao